E allora? Oggi cosa ci dobbiamo dire? Camerate comunisti, cosa ci dobbiamo dire oggi? Cosa ci dobbiamo dire oggi? Forse la riflessione, la mia colpa che devo fare è che ancora una volta sono stato troppo positivo su un'inerzia di squadra che si era creata che era molto interessante, molto giovane, molto gazer Poi tutto mandato a baldracche, tutto uno schifo, tutto vergognoso Oggi era una partita che ti poteva salvare virtualmente perché se oggi battevi lo Spezia che era quello che dovevi fare ma senza problemi E tra l'altro Andrea Mereo ha portato sfiga, Andrea non ti presentare mai più allo stadio Devo dire che oggi avessi battuto lo Spezia, avevi, anche se non eri chiaramente salvo perché eri a 28 punti Però facevi un bel passo in avanti, oggi hai salvato lo Spezia praticamente e ti stai condannando da solo con le tue stesse mani Io inizio col riferirmi ad un articolo scandaloso che ho letto in settimana A cui tra l'altro hanno anche cambiato il titolo, dei paraculi clamorosi Spero che guardiate questo video sinceramente, adesso non farò il vostro nome Una testata comunque vergognosa e scandalosa che tira sempre delle tanfonate a livello di mercato Che veramente, guardate, veramente vi do un consiglio Come io dovrei chiudere questo canale che è uno schifo Vi consiglio veramente di chiudere quel blog, quelle cose Adesso voi pensate, Cagliari Calcio Blog? No, non è quello tra l'altro, non c'è neanche blog nel titolo Quel blog e quel sito che è veramente uno schifo Uno schifo, pare veramente di stare in guerra su un giornale sportivo Talmente stronzate vengono sparate Ecco comunque questo articolo che dice Ah ma Joe Pedro sta giocando male perché è colpa di Gaston Il titolo era questo, è colpa di Gaston Gaston è colpa sua Si pestano i piedi, lo fa giocare male Ma cosa? Ma cosa? Che Joe Pedro è un morto da due mesi e mezzo Che ne sta combinando di tutti i colori Anzi non sta combinando niente Quando ne combina di tutti i colori è ancora peggio E adesso arriveranno tutti E ma vi ha salvato Ma adesso ma non me ne frega niente Io voglio che qualcuno ci salvi quest'anno Joe Pedro non è in grado quest'anno Va fatto riposare Io vengo a Cagliari contro il Milan Guai a te Mazzarri se mi riproponi sto cazzo di Joe Pedro Perché io altri punti non li butto per colpa che ogni volta giochiamo in dieci Poi la colpa non è solo di Joe Pedro chiaramente E ma tutte le cose E no ma con Gaston non si trova Dobbiamo mettere qualcun altro Ma l'unico giocatore che ci ha tolto le castagne dal fuoco gli ultimi due mesi Tu lo togli per te rimanere col capitano che ha pure rubato la fascia al vero capitano Luca Cepitelli A cui penso sempre Ma per favore va veramente Allora guardate Se voi avete letto questo articolo Tra l'altro mi avete stata anche abbastanza famosa nell'ambiente Cagliari Se voi l'avete letto e siete d'accordo con questo articolo Veramente chiudete questo video e disescrivetevi Ve lo chiedo veramente per favore Ve lo chiedo per favore Ve lo chiedo gentilmente Perché io non voglio Non voglio Avere a che fare Con gente che non ragiona in modo obiettivo Perché il Joe Pedro Visto oggi Poi voi direte È stata una partita che è fatta schifo tutta la squadra Sì Però Joe Pedro Che è decantato come il migliore del Cagliari Che io mi leggevo i commenti live di gente Tifosi di squadre di Inter di Roma Che mi dicevano Eh ma voi avete dicevo Joe Pedro che è fortissimo Ma quale è fortissimo Ma io spero di Dio che Mancini non lo convochi per Per le qualificazioni mondiali Eh ma non scherziamo Ma non scherziamo Ma non scherziamo Arriviamo agli altri poi Eh perché Pavoletti Pavoletti ripeto Pavoletti nessuno lo vuole dire Ma Pavoletti è buono Quando entra a 10 15 20 minuti Perché è un giocatore carismatico È un giocatore che nella cacciara più totale Ci sa stare benissimo Ma non è un giocatore che Al fisico per farti sponde Testa Non ne prende più mezza E sempre ste randellate da dietro Sto gioco alla rastelli Con i lanci da dietro La palla su Pavoletti Che non salta manco più Ma oh ma che cos'era Sta partita Oggi si che mi incazzo Perché oggi tu ti sei giocato Hai giocato Hai dato regalato la salvezza allo Spezia E te la sei messa nel sedere tu Oggi veramente ci siamo mangiati Una cosa imbarazzante Imbarazzante Addirittura mi son dovuto Subire E mi prendo la maglietta di McKennie Mi son dovuto subire La scena di uno dello Spezia Un pipponazzo dello Spezia Che fa così con la maglietta di Manai Cioè veramente ragazzi Una scena del genere Con la maglietta di Manai Neanche negli incubi peggiori Me la sarei meritata Ragazzi veramente Mi avete fatto passare Un pomeriggio infame Schifoso Preferivo passarlo a fare A preparare qualche esame Veramente Uno schifo Uno schifo L'unico Che ci ha provato Sino alla fine Con ciabattate Colpi di testa Cross Interventi E per fortuna non si è fatta munire Giorgio Altare Giorgio Altare E Cragno Ringraziamo anche Cragno No Questo son serio Non è ironico Ringraziamo Cragno Che nel primo tempo Ha fatto delle parate allucinanti Uno dei migliori in campo Oggi E oggi va detto E oggi va detto Ma poi al di là dei gol Che sono stati degli episodi Casuali Fortuiti Come al solito lo Spezia Ma Ma Cioè Ma tutta la partita Tu non hai giocato Non hai giocato E perché Ma a parte che tu Ti devi mettere in testa Mazzarri Che in partite del genere Tu devi andare lì Col 3-4-2-1 Con Gaston Keita E Pavoletti Se proprio Gio Pedro Lo troviamo E Gio Pedro Lo mettiamo sta punta Vediamo come fa la punta Va bene Lo mettiamo E tu devi andare lì E massacrare Lo Spezia Ma non per cattiveria Ma perché Se tu ti vuoi salvare Tu devi andare lì Con Praticamente tre punte E gli equilibri Le cose E ma gli undici Vanno riconfermati Ma Ma Mazzarri Ma per favore Veramente Valder Io lo sai che ti voglio bene Ma per favore Ma tutte queste supercazzo Le lasciali a qualcun altro Perché Io con le supercazzo Le micilavo veramente Mi faccio una bella Sciacquata di palle Cioè Sinceramente Il coso E ma Gioao Gaston Si camminano Ma sentite Veramente Mettete il gomito così Andatemene a cagare Che Veramente Ne ho Ne ho fin sopra i capelli Di tutte ste Ste boiate Che mi avete tirato fuori Ma a livello difensivo Poi è stata una partita Anche decente Il problema è stato Questo centrocampo Che Baselli Oggi ha fatto Un partitone Oggi Baselli Un partitone Chiaramente ironico Grassi Una partita buonissima È l'unico È l'unico Perché poi Marin entra Non ha combiato nulla De Iola oggi Imbalazzante Ma ripeto Non mi voglio accanire Su De Iola Poi domani faremo il video Il giorno dopo Sentenzieremo un po' meglio Ma Keita entra Dove cazzo l'ha messo Trequartista Cioè delle cose Quando era da mettere Largo a sinistra Chiaramente A sinistra c'era Altareala Momenti Veramente delle cose Ragazzi che Bah Bah Sono senza parole Senza parole Mi dispiace anche Che il buon Andrea Si è andato là E Si sia preso A sta vagonata Di merda Veramente Perché fa Dispiace Uno pensa di andare allo stadio Di gasare Di fare Di gasarsi Di passarsi Uno dei pomeriggi Più belli della sua vita Poi a volte va Come quando sono andato Io a Torino Io spero veramente Ragazzi che Di venire a Cagliari E gustarmi Quanto meno Non una sconfitta del genere Ma Se dovessimo perdere Perdere veramente A testa alta Almeno vinciamo Il trofeo dell'Inter Il nuovo Quello a testa alta Vabbè dai Va bene Ci sentiamo domani Con il video post partita Vi mando Un bacione Grazie a tutti Per la anticipazione E ciao a tutti